Raul, una Calabria raccontata in un modo nuovo? Sì, l'ho trovata, l'ho riscoperta. La Calabria dei bergamotti, dei limoni, delle arance, del mare, del sole, tutte le scogliere che ci sono in Calabria. La bellezza della Calabria va rivalorizzata, nel senso che comunque spesse volte lei voleva portare colore e positività. Devo dire che in questo corto Gabriele, la sua regia, Rosio con la sua presenza, sono stati fondamentali per dipingere la Calabria che io ho sempre amato da bambino. Rossio, ti sei innamorata della Calabria? Sì, ammetto che la conoscevo la Calabria, la conoscevo attraverso i racconti di Raul, ero stata con una tournée a teatro per la Calabria, però è sempre una scoperta continua. Mi ha colpito molto in questo tempo che ho potuto viverla un po' di più anche la gente, i calabresi, perché io per una come me che arriva dall'estero, l'essere accolta sei particolarmente sensibile, quindi loro ci hanno trattato come se fossimo di casa. Una battuta sulla Presidente Santelli, ha voluto fortemente questo video, questa produzione per rinnovare la comunicazione della Calabria? L'ha voluto fortemente, noi fortemente abbiamo aderito veramente con grande passione e devo dire che la sua energia sprizzava veramente energia dagli occhi e da tutto. Proprio era una donna esplosiva, una donna che ti comunicava voglia di riscatto, voglia di farcela, di combattere insieme, di fare un gruppo che potesse veramente fare qualcosa, smuovere qualcosa. Stasera stiamo qua per questo, per continuare un po' la sua lotta. Stasera stiamo qua per questo, per continuare un po' la sua vita.